non è che c'è qualcosa nascosto sopra sopra le casse c'è devo agganzarmi là? mi sono un po' distante ah ok è apparso il coso una volta mi sono intrufolato su un mercantile su TheNab ah sì? qualche consiglio? no, niente a che vedere con una luce Hulk facevo meglio a starmene zitto puoi pensarci tu? ma certo ah guarda quanti trasportano i cararmati eh beh la fantascienza fa schifo mi riferisco a quelli che vogliono solo il fantasy ecco, fate morire così è bello distante eh ok non bisogna fare sì bisogna fare il coso ho visto dei nemici sono sopravvalutati eh tu sei un modello 459? sì allora sei un mio subordinato no sono un modello 388 sì il tuo modello ha un numero inferiore sei un mio subordinato no il mio modello ha un numero precedente e in quanto tale è superiore non è così che funziona la numerazione basta è definito ok ok ma no ho subito danni cavolo è partito lo steam invece che hanno perso su andiamocene controllo che più avanti sia libero mi ha scattato però continuo leggere che ne avevo già parlato durante resident evil 4 che c'è 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 un dei modder che cerco di iniettare il dlss in alcuni giochi tra cui appunto resident evil 4 che non lo supporta questo non lo supporta dicono che hanno provato a iniettare il dlss 3 e si sono raddoppiate le prestazioni non lo so faccio un po' fatica perché se ho un problema di gestione della vram non so quanti miracoli possa fare da solo un dlss però devo concentrarmi allora facciamo così cambiamo giusto per sport beneficio manca sempre uno slot potremmo fare un 3 più 2 ma non questo è già su quindi qui sicuramente no era bloccato ovvio qui non ha una porta ma si finalmente uno che capisce nessuna attività misattivazione sogna di neutralizzazione piano nemici ne paraggi però mi piace tutto a posto voi due dovresti mettiamoli tutti tutto brucia parata assaggia sul bersaglio si parte ma questo sta facendo bel lavoro di squadra tu continua a salire ok in qualche modo che ne dici di quello ecco non ho mai dubitato di te va avanti io guardo in giro e controllo che non ci siano sorprese fa attenzione di nuovo la batteria oh eh sarebbe stata carina la scena se non non avesse scattato in quel momento cioè ha rovinato lo scatto ah Qua? ovviamente ah vieni qua ecco io sono i droidi ah taglia va bene ho scostato la fine un certo punto funzionalità perdute eliminare era stato abbastanza flawless colpi a tradimento quando sei vicino niente non si apre no 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 là eh dai è che scatta fate allerta ci sono degli ostili nell'area siamo sotto attacco qui pronto alla battaglia non deve passare nessuno non so cosa abbia in mente Reivis ma ha tirato ospiti sgraniti in passato derubare quegli stupidi prospettori sarebbe stato un gioco da ragazzi ma adesso hanno degli amici li sento a girarsi qui intorno oh non mi piace ah occhi aperti e armi pronte noi siamo i predoni del caos nessuno invade la nostra base senza conseguenze no vabbè questo è morto ora tutta la nave sa che siamo qui c'è questo è attraverso sabine di qua perché strano perché lì c'è ci sono delle delle lineette qua però forse al ritorno non so magari si apre dopo ci sono delle lineette qua troppo scomodo come al cavolo si usa qualcosa qua non leggendo a comandi e verso l'erogio zoom ruota sposta e ora andare su giù anche qua affonda no devo stare qua si lo fai con lo zoom allora però allora come facciamo noi dobbiamo andare lì questo è una scorciatoia e basta vabbè facciamo la meditazione un secondo ok questo è l'ascensore fermiamoci qui a parte che riposare un attimo non mi sembra che valga la pena qualcosa lì sblocca quello o questo cosa fa chiama l'ascensore sì percorso bloccato ah che qua non l'ho neanche visto no ok eeeh hmm vogliamo entrare qua per morire aspetta 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 pure qui è due insieme e non è il massimo bene cos'è sta cosa cosa sta succedendo c'è questa Roma spero che non sia la scheda video per dire ma quello che ero distrattissimo adesso lo mettiamo sull'altra questa qua non è a posto aaaah mi sto guardando su ma non deve essere tornato su quella ascensore lì l'abbiamo richiamato e scatta ancora mi raccomando è bloccata forse è rotta non lo so intruso io cambio aria armi arrivate così ti piace stai ballando verso la difensiva ho schiacciato ho schiacciato ho schiacciato combatterò fino alla morte non sono pronto a morire prendi questo sei furbo questa non ci voleva a posto, tutto a posto ma è preso lo stesso, pensavo di essere la distanza giusta io non morirò prendi questo, non mi piego oh, stai soffrendo oh, cazzo non è quella cosa qua non ho ancora bene capito è una difesa, una parata ma guarda quanti attacchi ok fermiamoci qui guarda che posto pronto? sempre chiuso bisogna andarti là, ma quella lì alla fine eh, giustamente bisogna attaccarsi là io ho scherzato, ma ho aspettato che arrivasse mi piace questa situazione dai ma non è pieno, non è una barra adesso è pieno ottimo però volevo andare a vedere là ma resistere ci vuole ben altro per uccidermi ma tra l'altro quello che si era qua come me non c'è quello che abbiamo trovato qua si agganza qua per caso no e cosa serve? va di là e poi va su lì? no, perché volevo farlo adesso perché sembra che adesso ormai siamo nella stanza finale ok quindi tanto volevo farlo adesso, no? persistenza qua e allora via qua non siamo un po' in alto allora lì abbiamo preso qua finisce lì, no? ah, c'era la possibilità di fare c'è qualcosa qui sopra lì sopra ah, sì, ok da lì cavolo cavolo ecco perché era troppo alto perché in realtà non mi servono a scivolare ci sono addosso materiale per quella dobbiamo scivolare da qua dobbiamo scivolare da qua ovviamente adesso meglio riposare un attimo cos'è sto rubore? guarda che fossimo nell'acqua e allora che glitch di prima era brutto 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 sarei contento che Meryn si è unita a noi insiste, eh? mi piacere che voglia aiutarci con Tannalor aspetta, hai sentito? droidi distruttori eh, quelli qua perfetto scudi così non è giusto sì, ma basta avvicinarsi è che non abbiamo più cosa non abbiamo più goffo in effetti aspetta un attimo può far qualcosa lui? non credo sì, lui attaccava, no? da questa parte amico no in effetti adesso possiamo avvicinarci anche in questo ok ok cioè, scatta qua che ci sono tre poligoni in croce perché tutto è squadrato ho durato molto lo sai che non l'ha fatto solo per Tannalor, vero? non so di cosa stai parlando mettila come vuoi, Cal ehm bene, vediamo cosa abbiamo qui un turbo ascensore dentro c'è chi penso che ci sia diamo un'occhiata più da vicino sì, è Z dove conduce? alla torre di controllo allora è la nostra meta c'è un problema là sotto Cal hai visto? non so dici là sotto poi la telecamera ad un certo punto è andata giù droidi abbiamo visto di peggio guarda quegli AAT ho un piano senti qua io faccio del rumore e li distraggo per farti passare poi ci ritroviamo al turbo ascensore che ne dici? è rischioso ormai siamo ben oltre il rischioso buona fortuna anche a te mmm la nave non volerà ma c'è un hangar pieno di unità un esercito tutto per noi pronto a setacciare l'intero pianeta per trovare il mio padrone quindi le origini dallo scopo all'interno della Lucre Hulk appena recuperata Yuppa e Ravis fanno il punto sull'esercito che hanno scoperto e su ciò che potrebbe ottenere con esso qui di nuovo Mario no pare che sembra al momento giusto ti darò un segnale che segnale? vedati lo capirai da solo cosa dobbiamo fare qua? dar di là? che c'è? no non hanno fatto rapporto nessuna traccia di loro ora basta giocare no cosa spari? ecco poi sei eviti i cioè questa è una ralentatura ehm serve uno sim cioè serve uno sim ma non cura ma che c***o incisione soddisfacente è tutto scattoso qua eh non abbiamo più coso ma l'attacchio è questo aspettiamo un attimo che recupero aspettiamo entrambi per aspettiamo aspettiamo ad E' vero, è vero, è vero. Ha dovuto fare un po' di strada. In realtà ci si attacca. Questa qua va qua nel cantuccio a far cosa? Ah, ho preso lo stesso. Trovato nulla. Droid Eka. E' attacchi con la spada laser. Entra un certo limite. Ho anche la spada laser. Di solito si entra all'interno dello scudo e si attacca dentro. Cercheranno di rotolare via quando ti avvicini. Un bronzio. Ok, c'è già sull'ascensore. Bloccato. Bloccato. Fermiamoci.